Ecoformazione, formazione formatori con teoria e pratica dell'ecopsicologia. Un corso intensivo di 4 giorni per arricchire la tua professionalità in ambito formativo, con mappe, visioni, esercitazioni, proprie dell'ecopsicologia, immediatamente applicabili nei tuoi progetti di formazione. Ci saranno due professionisti esperti e appassionati in questo campo che metteranno a loro sapere e a loro esperienza al servizio di chi vuole iniziare la professione o arricchire le proprie competenze in ambito formativo. Parleremo di ideazione, progettazione, realizzazione, valutazione e celebrazione del proprio operato. Alla fine di questo percorso avrai potenziato le tue competenze professionali e ampliato le tue capacità lavorative. Sono Marcela Danone, sono psicologa, scrittrice, lavoro nella formazione professionale da più di 25 anni e insegno ecopsicologia all'Università della Valle d'Aosta. Ci sarò anch'io, Silvia Mongili, pedagogista, formatrice e docente dell'Università di Cagliari. Ci vediamo sul Monte Barro!